Lo avete sentito sul piede di guerra, soprattutto autisti di tira e lavoratori portuali, la situazione a Genova e a Trieste nei servizi di Ludovico Fontana e Simone Gorla. Non ci sono margini di trattativa se la richiesta è di revocare il decreto sul Green Pass. Nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocato dal prefetto di Trieste, massima attenzione alla manifestazione prevista domani all'ingresso del porto, promossa dal coordinamento lavoratori portuali, la principale sigla sindacale dello Scallo Triestino, che ha annunciato l'intenzione di bloccare tutte le operazioni a oltranza finché non sarà ritirato il decreto, attese più delle 15.000 persone che hanno partecipato al corteo dei giorni scorsi in città. Non si tratterà di uno sciopero perché non è stato autorizzato. Valuterà poi l'autorità giudiziaria le ipotesi di reato che si configurano a danno dell'attività pubblica anche che il porto esercita e quindi comunque valuteremo il comportamento dei manifestanti che mi auguro sia civile e che non crei appunto ricadute negative sull'Ordine della Sicurezza Pubblica. Presente alla riunione anche il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino che in assenza di margini di trattativa ha confermato di non avere altra scelta che di mettersi in caso di blocco a oltranza preoccupato, spiega, per le pesantissime ricadute economiche di un blocco che manderebbe in fumo anni di lavoro e di investimenti.